Vittorio, io ti conosco da 45 anni, è un periodo lungo. Nel frattempo ci sono stati 4 papi, 7 presidenti della Repubblica, 36 governi, 8 scudetti dell'Inter. Quindi è un periodo molto lungo, un periodo in cui io sono stato un tuo studente, un tuo tesista, un tuo ricercatore, un tuo collaboratore e un tuo collega. Quindi se facessero a me la domanda chi è stato il tuo maestro io non avrei dubbi. Però la domanda la faccio a te. Chi sono stati i tuoi maestri e cosa ti hanno insegnato? Io ho avuto tanti grandi maestri, ma i più importanti sono stati il professor Preti, il professor Finzi, Bruno Finzi e Angelo Cabrilla. Il professor Preti mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato come si fanno gli aeroplani, mi ha insegnato che cosa fa un ingegnere, mi ha introdotto all'attività sperimentale. Mi ricordo una cosa importantissima, quando io mi sono laureato volevo andare in America e bazzicavo però il centro di vola a vela dove il professor Preti era il faro. E il professor Preti mi ha detto guarda che l'America potrebbe essere anche in Italia e mi ha offerto un posto di assistente straordinario e di lì è cominciata la mia storia. Il professor Finzi mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato soprattutto quello che per me è stato più importante, il calcolo tensoriale che mi ha appassionato e la geometria della superficie. Ma, oltretutto, mi ha insegnato a scrivere i lavori scientifici. Quando io ho cominciato a scrivere i primi lavori scientifici, e ne ho scritti in poco tempo perché volevo fare la libera docenza piuttosto presto, lui me li ha letti i primi, me li ha letti completamente, mi ha corretto i primi e mi correggeva tutto. Poi piano piano ho imparato e alla fine mi correggeva molto meno. Ma devo dire che lui mi ha insegnato questo. Angelo Cabrilla invece era chiamato il capo da tutti anche in casa sua, era il capo dell'officina, era un ebanista incredibile, ha costruito tutti gli aeroplani che sono stati fatti dal centro di Volavela al Politecnico e mi ha insegnato come si trattano le macchine, come si tratta la materia ed ero una persona anche molto carina, molto gentile in tutto. Poi ho avuto tanti altri maestri, ma i più importanti sono questi. Ecco, ci racconti un po' com'è stato il tuo approccio al Politecnico e qual è stata la tua storia al Politecnico. Guarda, io mi sono iscritto a Ingegneria Meccanica nel 1953, non c'era ancora la laurea in Ingegneria Aeronautica, poi con la riforma Capocaccia hanno fatto la laurea in Ingegneria Aeronautica, io sono passato all'Aeronautica al terzo anno, ma allora l'istituto dell'Aeronautica si chiamava, era una cosa piccolissima, era nato da poco, gli uffici erano sotto scala della prima Nord, in Piatra Leonardo da Vinci, e i professori erano pochi. Io ho avuto la fortuna, veramente una grande fortuna, di entrare al momento giusto, per cui il nostro, questo istituto, ha continuato a crescere, ha cresciuto sempre, perché da lì negli anni Sessanta siamo trasferiti in via Golgi, merito soprattutto del professor Prete, il quale ha fatto fare dei passi da gigante proprio al Dipartimento, anche come edilizio, eccetera. E poi siamo arrivati alla Bovesa. Io ho vissuto tutta la vita in questo Dipartimento, non sono mai stato in altra università, non solo, ma ho avuto, mi sono occupato di tanti argomenti nel campo, nel mio settore, e ho avuto dei bravissimi allievi, bravi e tanti. I bravi allievi sono la più grande soddisfazione, secondo me, di un docente. Ecco, riguardo ai tuoi allievi, posso, mi piace testimoniare in prima persona, che l'approccio nel generare un così grande numero di allievi è stato quello del lasciare la libertà di ricerca. E questo è importantissimo perché uno, specialmente nella ricerca, deve seguire le sue curiosità, deve seguire quello che gli piace e così potrà avere dei risultati importanti. Uno dei primi argomenti di cui mi sono occupato è l'instabilità dei gusci sottili. I gusci sono pannelli sottili, sono la struttura principale degli aeroplani, sono pannelli sottili, curvi. E mi ricordo che io ho fatto la laurea in ingegneria aerospaziale a Torino, dopo la laurea di Milano, che io ho praticamente, oggi si chiamerebbe un master, era un corso di un anno, ti dava una laurea in ingegneria aerospaziale. E ho avuto come docente il professor Cicala, che era un genio. E è stato quello che per primo ha risolto il problema dell'instabilità dei gusci curvi, perché non si riusciva a capire come mai i risultati teorici davano un carico critico cinque volte superiore a quello sperimentale. Quindi prima di Coiter c'è arrivato? Beh, quasi contemporaneamente, però erano assolutamente indipendenti, cioè durante la guerra non si conoscevano, ognuno ha fatto del lavoro nell'ambito dell'università, ha fatto delle pubblicazioni nell'ambito dell'università, quindi non si... perché c'era la guerra. E lui ha capito che in quella condizione, per i pannelli curvi, a un certo punto la stabilità teorica lineare è talmente critica che bastano delle piccolissime perturbazioni o imperfezioni per far cadere la stabilità. E quindi ha scoperto questa enorme importanza. E quando lui ci spiegava queste equazioni, che sono equazioni non lineari, abbastanza complicate, io mi ricordo che gli ho detto, ma professore, non si potrebbe cercare di scrivere queste equazioni in forma tensoriale, perché se le scriviamo in forma tensoriale, abbiamo un'equazione unica per tutte le curvature dei pannelli. Poi dopo, in questa equazione, ci sono delle funzioni che terranno conto. Il professore Cicala mi ha detto, no, ma il calcolo tensoriale è troppo complicato. Me lo ricordo benissimo. E poi, una delle prime cose che ho fatto, invece, è quella di scrivere in forma tensoriale queste equazioni che mi ha portato a un grande... Poi dopo mi sono occupato anche dell'aspetto sperimentale, perché all'inizio mi sembrava che l'attività sperimentale fosse più difficile, l'attività più ingegneristica mi sentiva non preparato. E chi mi ha spinto e mi ha aiutato molto in questo è stato il professor Pretti. Abbiamo fatto delle macchine molto interessanti. In maniera un po' collaterale c'era un luogo in cui la praticità, la realizzazione era la cosa più importante ed era il centro di volo a vela. Il centro di volo a vela che era un posto dove gli studenti interessati e entusiasti potevano alla fine mettere in pratica in maniera tangibile quello che avevano. Vuoi parlare un po' di questa epopea? Il centro di volo a vela è l'origine di tutto, praticamente. Il centro di volo a vela esisteva molto prima dell'Istituto di Aeronautica, era animato dal professor Pretti fondamentalmente da studente, il quale da studente ha progettato degli aglianti meravigliosi e quando è nato l'Istituto di Aeronautica, l'officina del centro di volo a vela è diventata l'officina dell'Istituto di Aeronautica. Il centro di volo a vela è quello che ci ha dato l'entusiasmo per il volo. Voi tutti eravate piloti. E ha lasciato in eredità. Sì, oltretutto, quando io ero studente, oltre al centro di volo, centro studi ed esperienza per il volo a vela, C-V-V, c'era anche un C-P-V, Circolo Politecnico del Volo, che era un club, un circolo di volo che aveva sede all'aeroporto di Bresso e di cui ho fatto parte da studente, avevamo tre aglianti e un trainatore che ci aveva dato l'aeroclub, per cui volavamo a nostre spese spendendo pochissimo. Naturalmente bisognava lavorare perché un fine settimana aiutavi gli altri e un fine settimana a trovare il momento per fare il tuo voletto. Ma abbiamo fatto il brevetto di volo a vela ed era una cosa entusiasmante. Devo dire che questo spirito da parte degli studenti anche autonomamente di mettere in pratica, di costruire, si è molto ravvivato in questi ultimi anni. Quindi sono nate diverse associazioni studentesche che il Politecnico incentiva e supporta. Nel nostro dipartimento c'è Skyward, che è stato uno dei primi, che sono campioni europei nelle competizioni studentesche. Gli studenti stanno riscoprendo il gusto ingegneristico alla fine del fare. Siamo in questo spazio, che è il LAST, il Laboratorio di Sicurezza e Trasporti. Quindi ci vuoi raccontare un po' questo passaggio che è stato, secondo me, un altro passaggio epocale e al trasferimento in Bovisa. Ho cominciato a occuparmi di sicurezza passiva. Sicurezza passiva vuol dire la sicurezza degli occupanti quando l'incidente si è verificato. Generalmente la sicurezza passiva di tutti i veicoli, di tutti i mezzi di trasporto, consiste nel fare il possibile per evitare... Sicurezza attiva. Attiva, scusa. E fare il possibile per evitare un incidente. La sicurezza passiva, invece, consiste... Una volta che l'incidente si è verificato, consiste nel limitare i danni alle persone. Nel campo aeronautico si è sviluppata soprattutto inizialmente per gli elicotteri, perché per gli elicotteri diciamo che gli incidenti erano più frequenti, ma oltretutto per gli elicotteri è più facile evitare l'incendio, che invece negli aeroplani dalla fissa è quasi impossibile, perché l'isobbatorio è all'interno più protetto, eccetera. E allora abbiamo cominciato a occuparci di questo, abbiamo fatto i primi impianti nel laboratorio di Veragolgi e poi la cosa si è molto sviluppata. Naturalmente, parlando di sicurezza passiva, ci siamo occupati oltre che degli elicotteri, degli aeroplani, anche degli automobili, dei veicoli terrestri. E quando ci siamo spostati di qua, il professore Di Maio mi ha offerto la possibilità di fare in questo lungo spazio un laboratorio che effettivamente non era possibile, non era immaginabile in altri posti. E abbiamo fatto questo lungo, questo lungo slitta in decelerazione e altre cose. E devo dire che questo è diventato, è, credo, il più grande laboratorio universitario di crash in Europa sicuramente. Vorrei ricordare una cosa interessante che abbiamo fatto insieme, che è stata la ricostruzione dell'incidente di Ayrton Senna, molto interessante. In processo noi difendevamo l'autodromo di Imola, che era la vittima sacrificale, perché non si doveva dare la colpa agli inglesi, no? E quindi... E quindi di corso andava alla colpa. Cosa che invece assolutamente non era vera l'autodromo di Imola, non aveva nessuna responsabilità. La conclusione di questa chiacchierata, una cosa molto puntuale. Cosa ti ha dato il Politecnico in questi forse 50 anni di carriera, di permanenza al Politecnico? Cosa tu pensi di aver dato al Politecnico? Guarda, il Politecnico... È difficile dire tutto quello che mi ha dato il Politecnico, perché il Politecnico mi ha dato tantissimo. Mi ha dato anzitutto una forma mentale, una capacità di affrontare i problemi. Poi mi ha dato un lavoro che mi è piaciuto moltissimo. Mi ha dato la soddisfazione di avere dei grandi allievi. È stata la mia casa. Quindi il Politecnico mi ha dato tantissimo. È stata la mia attività, la mia vita, direi. Io non so cosa ho dato al Politecnico. Credo di avergli dato certamente dell'attività, certamente del lavoro, certamente degli allievi. E ho contribuito alla crescita del settore aerospaziale, che è diventato molto grande, molto significativo. Abbiamo tanti docenti, tanti allievi. Siamo rimasti l'unico dipartimento aerospaziale d'Italia. E quindi credo che sia un risultato importante.